Ci troviamo a San Giovanni Appiro con il sindaco Ferdinando Palazzo. Sindaco, quali sono i progetti dell'amministrazione? Allora, da quando ci siamo insediati il nostro spirito è stato innanzitutto dettato da quelli che potevano essere degli investimenti in relazione alla qualità dell'ambiente che ci circonda, ma anche a quello di togliere il comune di San Giovanni Appiro in un isolamento in cui era stato confinato. Innanzitutto devo esprimere tutta la mia gioia per essere affiancato da un neoconsigliere provinciale come Pasquale Sorrentini. Questo traguardo è il traguardo di una squadra. Dopo un anno e mezzo di lavoro penso che abbiamo portato dei tasselli importanti. Il PUC è in approvazione per quanto riguarda gli ultimi pareri, quindi dovremmo aver concluso quello che è il nostro primo obiettivo, l'obiettivo primario è quello di dare una regolamentazione urbanistica al territorio. Abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con il Parco del Cilento, con la CONSAC, con l'ATO e con la provincia di Salerno. Stiamo andando in sottoscrizione di questo protocollo affinché tutti gli enti che possono essere interessati in quella che è la depurazione delle acque concorrano a dotare il nostro comune di una depurazione efficace. Scario con Camerota costituisce l'area marina protetta della costa degli Infreschi e della Masseta, quindi dobbiamo innanzitutto proteggerci da noi stessi prima che essere protetti da una linea su una mappa geografica. Abbiamo messo in cantiere un progetto di 490.000 euro per farci trovare pronti poi al depuratore, erano dei soldi che già avevamo in cassa, abbiamo ottenuto poi un altro finanziamento di 2.150.000 euro che investiremo sempre per la depurazione delle acque di Scario. Siamo stati i primi in Campania, i sesti in Italia, ad accedere ai fondi del credito sportivo per la ristrutturazione del campo di San Giovanni Appiro. A breve avremo la manutenzione dei campi di calcio a 5 di Scario e di San Giovanni, stiamo andando a ripensare quello che è un parco giochi, abbiamo avuto da poco anche il finanziamento per i giochi per i disabili. Partirà la metanizzazione del Cilento che interessa appunto il comune di San Giovanni Appiro per 8.800.000. Abbiamo in animo di fare un progetto di videosorveglianza comunale, abbiamo già messo i soldi in cassa, mi sembra siano partiti già i bandi di gara, gli appalti per dare più sicurezza ai nostri cittadini. Da giugno siamo andati in appalto con la nuova gestione dei rifiuti, siamo passati da una differenziata del 35% che era stabile ormai da troppo tempo, ha una differenziazione stabile dei rifiuti del 73%, questo è motivo di grande vanto per noi. Con Legambiente siamo testimonial per il consumo del suolo perché il PUC che abbiamo fatto in delibera porta che a Scario la crescita edilizia deve essere una crescita edilizia residenziale zero. Abbiamo due modalità di sviluppo che sono sia la montagna e quindi il parco terrestre che il mare con l'area marina protetta, abbiamo in animo di sfruttare entrambi. Faremo la delocalizzazione del monumento ai caduti con la riqualificazione di un'area vicino alla caserma della Guardia della Forestale. È giusto anche che non si abbandoni la memoria di queste persone, che la memoria sia sempre il nostro timone per affrontare il nostro futuro. Grazie a tutti.